Ora, ora Cristo! Che facciamo qui? 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 Ciao! Ciao! Con l'Europa Lega Bellissimo Andiamo a vedere anche cosa c'è da questa parte Questa probabilmente è la sala dello staff è lo spogliatoio dove si cambia a Mourinho con tutti i suoi collaboratori Ve lo faccio vedere da vicino questo trofeo Guardate che bello che è Se esco Un'altra parte Per male Questa è una parte Questa è un'altra parte Questa è un'altra parte Questa è un'altra parte in un'altra parte ... Ragazzi benvenuti alla Puskas Arena Stadio pazzesco Mamma mia ragazzi, mi vengono i brividi, lo stadio della finale Come si è messi con le condizioni del terreno di gioco? Ragazzi è perfetto! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Spogliatoio della Roma con il trofeo con l'Europa Lega Buonissimo!